L'università d'annunzio cambia idea e dice no al trasferimento nell'area dell'ex cofa a Pescara. Si è spento l'entusiasmo, ha detto il rettore Sergio Caputi, siamo entrati sul terreno dello scontro politico. E a chi accusava l'Ateneo di voler speculare e cementificare, il Magnifico risponde che non c'era ancora alcun programma e che era tutto in discussione. Il sindaco di Pescara Carlo Masci però non si arrende e dando la colpa all'opposizione spera ancora nell'università in riva al mare. Quell'area è abbandonata da oltre 20 anni. Dieci anni fa c'era stato un accordo tra la Regione e la Camera di Commercio per realizzare strutture turistiche a servizio del porto turistico e quel centrosinistra dell'epoca fece saltare con uno struzionismo in consiglio comunale inaccettabile quella ipotesi. Dopo dieci anni si ripresenta un ente pubblico che fa una proposta e la proposta oggi viene accantonata perché quel centrosinistra che con Alessandrini aveva raccolto questa proposta oggi si è messo di traverso a tutte queste tensioni, queste polemiche ovviamente hanno fatto allontanare il rettore. Se il no dell'università che intanto già punta ad ampliare la sede di Viali Pindaro dovesse essere definitivo il primo cittadino promette che comunque quell'area di proprietà della Regione sarà assegnata a un ente pubblico e non a un privato. Io sono convinto che su quell'area ci debbano essere soltanto interventi pubblici. Io non vorrei che gli atteggiamenti che fanno scappare interventi pubblici su quell'area possano invece puntare a qualche intervento privato come purtroppo è già avvenuto in quell'area negli anni passati.